Paolo Rigoni ha criticato fortemente il sindaco di Milano Pisa Pia sulla questione immigrazione, di come sta gestendo questo problema Milano, perché? Perché lui pensa di risolvere il problema dei tanti siriani deritrei abbandonati nella stazione centrale di Milano pensando di andare a fare un esproprio proletario di tutte quelle case chiuse che ci sono nella città di Milano ma che hanno il tetto di amianto. Francamente una proposta assurda, non abbiamo capito se questi estracomunitari li vuole mettere nelle case con il tetto di amianto esponendoli a gravi rischi oppure dopo degli interventi di ristrutturazione. Chi paga? Sempre i cittadini milanesi e se Pisa Pia ha pensato di impiegare queste case perché non ci ha pensato prima magari ristrutturandole e dandole alle tante coppie di giovani e di anziani che non sanno dove vivere. Ecco, durante la sua audizione al comitato Schengen, Pisa Pia ha detto come dovrebbe essere strutturato questo problema. Sì, anche lui si sta allineando sostanzialmente al governo, a Renzi, al ministro Alfano che vogliono rendere strutturare la gestione dell'immigrazione. Questo è francamente inaccettabile. L'immigrazione deve rimanere un problema occasionale di emergenza. Non lo possiamo strutturare attraverso due mezzi che sono l'operazione Mare Nostrum e attraverso l'abrogazione del reatto di immigrazione clandestina. Per l'accoglienza di questi immigrati il Paese già oggi sta rischiando di spendere oltre mezzo miliardo di euro che si aggiunge ai 100 milioni di euro che costa l'operazione Mare Nostrum. Francamente il Paese non se lo può permettere. Voglio ricordare che un italiano su 10, quindi 6 milioni di italiani, vivono in condizioni di indigenza, sono passati sotto la soglia di povertà. I soldi devono essere destinati a loro. Questa è la vera priorità del Paese. Questa è la vera priorità del Paese.